Il Tar ha detto che non ha annullato la gara ma ha dato torto alle prime tre che sono rientrate, tra cui la Disa che è entrata seconda e che avevano fatto ricorso ognuno all'altro. In pratica il Tar ci dice che tu comune hai due scelte, o scorrere la graduatoria e quindi passare al quarto, al quinto che ti risponderà oppure devi fare un'altra gara. Quindi a breve i nostri uffici legali insieme con noi amministratori decideremo insieme il cosa fare. Il servizio Mensa non sarà ovviamente interrotto, quindi per le famiglie nessun problema e prenderemo con calma e con le giuste considerazioni il nostro obiettivo. Insomma